E dunque, allora benvenuti, ci facciamo un attimo mute all, quindi se per caso poi avete bisogno di parlare, me lo scrivete, me lo dite e io vi riattivo se necessario. Ok, allora purtroppo adesso abbiamo fatto questi incontri un pochino distanziati, nel senso che io ho previsto degli incontri un po' più serrati nel corso di EduVR, a cominciare da metà febbraio, in modo tale da arrivare a vedere sia la programmazione per Google Cardboard, che eventualmente anche la programmazione per Oculus, perché alcuni di voi ce l'hanno, e la programmazione e eventualmente anche qualche cosa di realtà aumentata. Quindi c'erano, il programma era abbastanza interessante, era abbastanza ghiotto, ma visto che abbiamo avuto questo problema del, che sapete, del coronavirus, molti di voi, di noi anche sono stati molto impegnati, quindi abbiamo deciso di rallentare molto, di darvi comunque la possibilità di partecipare e in ogni caso di fare delle cose non troppo pesanti. Comunque, riassumo brevemente comunque la storia di questo corso, cioè il corso in realtà era già nato parzialmente l'estate scorsa, quindi l'estate scorsa io ho fatto già proprio un corso di Google Cardboard che era stato fatto non completamente, quindi erano state fatte diciamo un 4-5 lezioni offline, tra l'altro di cui ci sono ancora i video, se per caso siete interessati, lì possiamo, lì possiamo, vi possiamo poi dare i riferimenti a quest'altro corso su Google Classroom. Invece, in questo corso si pensava di approfondire un pochino quello che era Unity, quindi sostanzialmente capire bene come gestire Unity, sempre a un livello elementare. Noi, ripetiamo, non spieghiamo Unity a un livello super professionale, nel senso che se dovessimo spiegare tutte le sottigliezze di Unity, dovremmo fare un corso che fosse praticamente tutti i giorni, quindi, cioè non soltanto, insomma, una volta ogni mese, ad esempio. Quindi, quello che facciamo è di spiegare proprio le basi basi, le cose minime, minime, e le cose minime, le ripeto soltanto dal punto di vista, dunque c'è, arrivata Valeria, le cose fondamentali sono, per questo corso, consistono nel riuscire a portare dentro la realtà virtuale degli scenari, degli scenari che possono essere delle foto a 360 gradi, infatti nella primissima puntata che abbiamo fatto abbiamo visto che era possibile prendere una foto a 360 gradi e questa foto a 360 gradi poi abbiamo visto che poteva essere importata in Unity, poi abbiamo visto le basi basi di Unity e poi abbiamo visto un pochino di scripting. Lo scripting è molto importante, lo vedrete, l'abbiamo visto praticamente e lo si vedrà un po' in tutte le salse. Inoltre abbiamo raccomandato a tutti di usare una versione, una versione di Unity che si chiama la 2000, la scrivo anche qua su Zoom. Ciao a Rosalia che è arrivata. Quindi la versione che noi usiamo è la 2019.212.12. Perché usiamo questa versione? Perché questa versione è usata anche da Altspace VR. Al momento quindi la cosa interessante è che si possono costruire delle applicazioni da Blender si possono portare su Unity e da Unity si possono portare anche su Altspace VR. L'unica cosa che non si può portare su Altspace direttamente sono gli script, quindi tutti gli script che stiamo studiando in realtà su Altspace VR non girano e quello è un po' peccato. L'altro vi chiedo conferma ancora, mi sentite tutti? Allora io adesso stavo dicendo prima più che rispiegarvi tutto il giro che ho fatto nei video della settimana scorsa, vi faccio rivedere un secondo di nuovo e discutiamo un po' per volta. Però prima di iniziare a fare tutto quello rispetto all'impostazione del corso, agli obiettivi, cioè di imparare a usare come minimo il cardboard che tutti avete in casa e quindi in teoria tutti possono fare e poter per chi vuole poi farlo arrivare anche all'Oculus eccetera. Avete delle domande, qualche cosa di particolare. Ah, tra l'altro alcune di queste cose funzioneranno anche per il questo, per il Go, insomma per tutti questi visori che sono un pochino, un pochino diciamo più evoluti. Va bene, allora, visto che non vedo né di qua né di là particolari domande, allora apro i video che vi ho fatto, spostiamo un po' di cose e quindi i video che vi ho fatto in pratica i video sono fondamentalmente, ne ho fatti quattro mi sembra, quindi sono video molto, un po' più corti del solito, quindi nell'idea che se riuscite a, se magari pensate di avere a che fare con un video cortino, magari avete anche più voglia di vederlo fino in fondo, quindi se riesco anche i prossimi video riesco, cerco di farli cortini. Quindi il primo video che ho fatto, sostanzialmente ve lo descrivo, e sì, meglio corti che lunghi, quindi il primo video è la parte che si occupa dello scaricamento di Unity, cioè di Unity l'ho dovuto aver scontato, no? Quindi questo non ve lo faccio vedere, però vi faccio vedere come scaricare il Google VRSDK. Il Google VRSDK, quindi magari prendiamo un po' il video soltanto, quindi il video, vediamo un po' se riesco a ampliarlo, quindi c'è tutto, ecco, praticamente questo video in sostanza vi spiega come arrivare a scaricare questo pacchetto che si chiama Google VRSDK. Di questo pacchetto ho anche detto che c'è una brutta, diciamo, una notizia non bellissima, è che nonostante che Google Cardboard sia stato fatto da Google, appunto, e sia stata una cosa molto potente, quindi è fatta a partire dal 2014-15 fino ad oggi. Adesso da ottobre, settembre-ottobre, Google non si ne occupa più. Quindi il concetto è che noi andremo nel sito di Google, che poi in pratica è GitHub. Sapete che GitHub è quel sito da dove si raccolgono tutti, più o meno, tutti i pezzi di codice o applicazioni scritte. Quindi si va su quel sito, io tra l'altro, anche senza bisogno di dare il link, queste cose si possono trovare facilmente googlando. Quindi il codice d'accesso a questa cosa qua è GVR Unity, GVR vuol dire Google Virtual Reality e Unity è il pacchetto su cui vogliamo installarlo. Quindi andando su questo sito praticamente si scarica questo pacchetto. E per scaricarlo bisogna andare nelle release, sapete che su GitHub c'è un pezzettino dedicato alle release, quindi si può proprio vedere quali sono le release che si vogliono scaricare e poi da lì si scarica l'ultima versione. E l'ultima versione, sempre che non l'abbiamo cambiata negli ultimi giorni, è ancora quella di luglio, luglio del 2019. Ed allora non ne hanno più fatte perché ci si aspetta che faranno una nuova versione di questo pacchetto. Dopodiché si scarica questo file che ha l'estensione .unitypackage. D'altro volevo chiedervi quanti di voi l'hanno già fatto questa operazione? Vediamo se mi risponde qualcuno. Tu no. Allora, Rosalia, se lo farai, quindi hai capito più o meno come fare per andare sul sito, comunque se ti guardi il video c'è scritto. Viene, Daniel l'ha fatto perfettamente. Allora, questo pacchetto una volta scaricato praticamente conduce a... Cioè praticamente salva un file sul disco normalmente. Dopodiché voi dovete andare nel vostro Unity Hub. Tra parentesi vi richiedo di nuovamente, voi avete tutti presente cos'è l'Unity Hub? Tanto fate pure domande perché se per caso diciamo cose... Sì, perché quando si lavora con Unity bisogna sempre installare e usare Unity Hub perché consente oltretutto di lavorare con versioni diverse di Unity. Infatti potrebbero esserci delle applicazioni che vogliono Unity 2019-2, 12, altre che vogliono il 2018, insomma, eccetera. Se avete Unity Hub è molto vantaggioso. Inoltre con Unity Hub vi scarica tutto il necessario per poter sviluppare con Cardboard. Ma questo l'abbiamo visto qualche mese fa, ok? Quindi per fare questa cosa io ho raccomandato caldamente la versione 2019-2, 12, F1 che si installa negli installs, eventualmente andando a cercare negli storici perché non è l'ultima, quindi è un pochino complicato forse da trovare. Ma l'ho fatto vedere nei video storici. Dopodiché quando si entra in Unity praticamente vedete che buona parte del video sono attese e comunque c'è l'opzione in cui si va su Assets e qui si fa Import Package. Andiamo un po' e dall'Import Package poi si... Andiamo un po' se riusciamo a farlo, anzi magari faccio girare proprio il... Ah, vedi, Import Package e Custom Package. Quindi quando, tutte le volte che si ha un file tipo Unity Package, abbiamo detto, bisogna fare tutto questo giro, Assets, Import, Custom Package e a questo punto, dopodiché, si va a cercarlo sul disco dove si è scaricato. Io qui l'avevo scaricato più volte e si fa Apri e lui tira dentro questo file. Qui fa vedere subito l'elenco di tutte le cose che ci sono dentro quel package e di solito si importa tutto e... Aspettate che c'ho un coso tra le cose... Quindi lui parse, fa l'import di tutti i package, quindi ci piega in tempi biblici i soliti e quando è finito la cosa che succede è che si è generato praticamente una cartella sotto gli Assets. Quindi gli Assets di Unity, quando avete, quando entrate normalmente all'inizio c'hanno soltanto le scene e invece dopo aver caricato questo Unity Package compare anche questa cartella. Poi, non so se ci avete notato, che compare anche in cima un Google VR. Allora, Google VR io tra l'altro non l'ho neanche molto usato perché io per usare Google VR di fatto lo cerco poi qua, nella ricerca per usarlo. E tenete presente che questa operazione dell'import di Unity Package dovete farlo ogni volta che cambiate il progetto. Quindi una volta che l'avete fatto sul progetto che avete creato qua, va bene, quindi le volte dopo che ci rientrate lo ritrovate, no? Il Google VR. Ma se l'ho fatto per la prima volta, dovete, per ogni progetto nuovo, dovete fare tutto questo trigo. Quindi è uno dei motivi per cui i progetti Unity diventano molto grossi. E una volta fatta questa operazione qua, per vedere se è stato caricato correttamente, abbiamo detto che si vede là sopra, ma si può anche cercare alcuni dei componenti. Vedete che io sulla ricerca digito GVR e quindi GVR, che è proprio la sigla di questo pacchetto, compaiono tutti i pacchetti GVR. Quindi praticamente il primo video serve soltanto per caricare il nostro, il nostro, praticamente plug-in. Tutta questa parte, anche se non l'avete fatta, vi è chiara? Il motivo per cui si usa questo plug-in è perché ci dà degli script o degli oggetti che servono per poter far funzionare il Google Cardboard. Quindi questo è, diciamo, il primo video. Non ci sono domande su questo? Sì. Comunque, ripeto, i video che ho fatto li ho provati a risentire oggi, poi ovviamente ci sono sempre delle cose che non funzionano, quando poi uno le prova, ma direi che dovremmo esserci. Poi, la seconda parte, ho fatto un altro video, leggermente più lungo questo, in cui ho cercato di spiegare come mettere la camera e come mettere il editor simulator. Allora, il concetto, eh sì, il concetto dei plug-in vale dappertutto. È proprio un modo di funzionare che ha Unity. Quindi tutte le volte che si rientra in un progetto nuovo, bisogna sempre fare questa operazione. Allora, stavo dicendo, per sviluppare, vedremo adesso, quindi entriamo appunto su questo video, che è il parte 2, chi ha chiamato camera e GVR editor simulator. E qui ci sono una serie di trappole. E queste trappole alcune di voi le hanno già sperimentate, quindi vediamo un attimo se riusciamo a evitarle per anche altri. Allora, qui... Ok. Allora, quando si entra abbiamo la nostra scena. E nella nostra scena, la cosa che io insegno, diciamo, l'ABC di Unity, un po' come l'ABC di Blender, è di costruire un piano e un cubo sopra. Quindi la prima cosa che faccio quasi spontaneamente, anche senza pensarci, è quello di... La scena, tra l'altro, è composta un po' come su Blender, quindi c'è la camera, che sarebbe questa, e la luce direzionale. Ma noi, la primissima cosa che ci facciamo, è di aggiungervi un detto, un GameObject. Quindi, anzi, due. GameObject sono, a casa nostra, sono un sacco di cose, ma noi ci concentriamo sostanzialmente sul pavimento, il cubo, e poco più. Però c'è un sacco di roba, ecco, per intenderci. IconUnit, volendo, potete fare un testo, potete fare degli alberi, e lo fa direttamente. Potete fare un terreno, quindi terreni, colline, montagne, eccetera. Quindi colline, montagne, più alberi, è tutto predisposto. Ragdoll, non so neanche cosa faccio esattamente, ma credo che siano le bambole mosche, quelle lì che cadono. Diciamo che noi ci concentriamo sulle cose facili, per il momento, no? Quindi le cose facili sono le nostre cosucce a cui siamo abituati. Certo, anzi, con Blender funziona ancora più facilmente, perché è sufficiente, nella cartella degli assets, se voi spostate un file collada, oppure un file Blender, lui lo prende direttamente. Anzi, ultimamente ho visto che la cosa più semplice è proprio quella di portare un file collada, in modo tale di salvare il file collada, ad esempio da Blender, direttamente dentro le cartelle di Unity. Perché la cosa carina di Unity è che ogni volta che all'interno del file del progetto compare qualche file nuovo, lui la prima cosa che fa è di pascolarsela. Quindi lui cosa fa? Va dentro questo nuovo file, vede se è un file che conosce, quindi se è una texture, piuttosto che un file Blender, piuttosto che un file FBX, o cose simili, e se lo tritura, e quindi se lo adegua in modo tale da poterlo usare. Adesso stasera non lo farò vedere, in particolare, però ho fatto dei video, dei video dove si spiega bene questa cosa qua. Infatti uno degli obiettivi che vorremmo fare, non magari stasera, ma nelle prossime lezioni, è proprio quello di portare un'ambientazione vostra, anzi sicuramente sarà il compito di esame di questa cosa qua, sarà costruire voi, oppure prendere da Sketchfab, se non lo sapete. Se non sapete usare Blender non c'è problema, nel senso che potete prendere o i lavori che trovate su Sketchfab, oppure potete chiedere agli altri del corso se vi danno la mano. Questi lavori li portate dentro Unity, li aggiungete, vedremo che vi dovrete sempre ricordarvi di aggiungere le Collision Mesh, che però su Unity sono così come anche... Tra l'altro chi ha fatto il corso di Godot con me l'anno scorso dovrebbe ricordarsi un po', che abbiamo fatto più o meno lo stesso mestiere. Quindi i mestieri, tra l'altro c'è una persona che sta aspettando, quindi lasciamo entrare. Quindi dicevo, con Blender si possono far entrare tutti questi oggetti o direttamente da Blender o attraverso degli export, che possono essere i soliti formati che sono con l'ANA, piuttosto che GLTF, che piuttosto che FBX. Ok. Comunque, la cosa che viene fatta è di costruirsi... Cioè, allora, per queste cose banali che stiamo facendo adesso io costruisco tipicamente un pavimento e il pavimento lo ottengo con un piano. ne approfitto per vedere se vi ricordate un po' di cose. Cioè, se io... Quella differenza fra costruire il pavimento con un piano e costruire il pavimento con un cubo e schiacciarlo, mi potrebbe ottenere un pavimento... un pavimento... Cioè, si potrebbe fare il pavimento sia partendo da un... da un cubo schiacciato e sia partendo da un piano piano. Se qualcuno di voi riesce a scrivermi in chat quale potrebbe essere una controindicazione nell'usare un piano... Soprattutto chi ha lavorato con Blender dovrebbe saperlo. Più che altro per sapere se mi sentite ancora o no. Perché poi a fine magari... Perfetto. Lucia Bartolotti ha detto la cosa giusta... Rossano... Allora, no. C'è una cosa da dire. Una cosa per volta. Allora, Lucia ha detto il piano non ha spessore e ormai non permettono di vedere da un lato. Ed è giusto. Nel senso che nel piano c'è praticamente una faccia, una mesh che si può vedere solo dall'alto. Quindi se voi lo vedete dall'alto lo vedete ma se per caso cadete e guardate verso l'alto non vedete il pavimento perché lo vedete dal contrario e le normali sono rovesce e quindi risulterà trasparente. Invece chi ha detto che non ha la fisica che è Rossano in realtà la fisica ce l'ha perché quando si crea un piano in questo modo viene costruito automaticamente anche una collision mesh. Mentre invece se voi importate un piano o un cubo da Blender ricordatevi che non viene mai aggiunta automaticamente la collision e quindi diventa sempre Phantom. Questa è una trappolona che io ci sticasco tutte le volte. Infatti poi prendo le cose le costruisco tutte per benino e me le porto poi su Altspace VR e poi su Altspace VR o su un altro mondo virtuale ci passate attraverso il che non è molto bello. Invece se costruite il piano da dentro quindi non da Blender automaticamente ci sarà anche la collision mesh. quindi allora andando avanti su quello che stavo facendo nel video praticamente viene costruito il piano e poi vado a costruire c'è un'altra opzione che permette di costruire il cubo e un po' se la vede vede Create e poi c'è un 3D Object e c'è viene costruito il cubo e poi su questo cubo ecco la cosa che io faccio che avevo spiegato anche nella prima lezione è di metterci un materiale questo materiale praticamente faccio proprio tasto destro Create Material e poi su questo materiale gli metto il colore cliccando qua sull'albedo l'albedo sarebbe il colore proprio dell'oggetto che vado a mettere scelgo il colore che voglio dargli e a questo punto c'è tra l'altro con questo con questa solita rosa di colori scelgo il colore che poi gli darò e poi semplicemente trascinando questo materiale sul cubo il cubo diventa del colore rosso in questo caso ok quindi questa qui è la base quindi viene costruito il cubo e poi credo che la prima cosa che faccio è di andare a andiamo un po' a fare uno script per ruotarlo allora lo script di rotazione mi sembra che l'avessimo già visto in un altro in diversi in diversi le lezioni che abbiamo fatto in passato comunque qua praticamente lo rifaccio credo da zero oppure lo prendo uno che ho già scritto e comunque lo script di rotazione è sostanzialmente inserendo lo script e poi cliccando lo script quindi torno attimo indietro praticamente qui cosa si fa si aggiunge un componente e si specifica lo script e il aspettate un po' anzi facciamo facciamo così ve lo faccio un attimo scorrere il video in questa parte qua così vediamo un po' voi lo sentite l'audio del video? no ah è strano ah perché forse avevo detto che quindi ve lo dico io quindi ah vabbè comunque il concetto è che viene agganciato lo script si fa un nuovo script e si si clicca sullo script e poi si entra in questa famosa diciamo mascherina che dice praticamente come è fatto lo script e lo script di rotazione e qui abbiamo visto in una lezione lavoriamo su questo script che come vedete è composto da parti da due parti uno start e un update l'update è la parte che lo fa vivere come inserire una rotazione di 90 gradi è sufficiente che tu fai una rotazione cioè mentre questo rotate qua viene fatto praticamente ogni volta che viene fatto scattare l'update la rotazione ma pi greco tipicamente non lo puoi scrivere pi greco scritto così dovresti scrivere qualcosa come pi però scritto in un determinato modo comunque magari questo lo se volete faccio poi me lo segno e poi ti faccio poi un esempio tu vuoi fare una cosa che giri 90 gradi esempio quando lo clicchi solo che 90 gradi non si vede un granché perché girare 90 gradi vedi semplicemente l'altra faccia quindi potresti per dire uno script che è il click e lo faccio girare di pi greca sesti qualcosa del genere magari si riesce a capire che sta girando o qualcosa del genere comunque questa cosa qua è una rotazione uniforme in cui c'è praticamente una velocità in realtà poi molti testi sacri degli unity dicono che ogni volta che si fanno delle operazioni dentro update bisognerebbe sempre usare un delta time quindi speed per delta time questo per rendere la rotazione dell'oggetto fluida altrimenti rischia di essere intermittente tenete conto che unity che vi sto spiegando viene usato proprio dai professionisti per fare videogame tipo quelli che vengono venduti a 100 euro o anche di più molti di questi sono fatti con unity quindi stiamo parlando stiamo parlando non di un giocattolino ma di un di un software per professionisti quindi c'è tutta una serie di raffinatezze molte noi non ce la faremo a vederle quindi useremo come al solito lo strumento allo 0% della sua possibilità 0,1% dunque uno sta per sì lavora in radianti no la speed non è sì in realtà sì vuol dire che incrementa praticamente la rotazione di un di un di un radiante per volte quindi è un pochino veloce insomma questa cosa qua quindi bisogna poi controllare bene questo serviva soltanto per dare un'idea che il cubo ruotava quindi quando poi lo vedrete questo cubo nel nel google cardboard la cosa bella è di vederlo il google il cubo che gira quindi dà una sensazione insomma di movimento lo script ruota questo script ruota mi sembra anche di averlo messo vediamo un po' se è vero no magari glielo scrivo poi lo metto poi dopo come commento anche lo script che ruota che è molto semplice ma allora metto tra gli appunti la rotazione py sesti ad esempio al click metto come appunto che vi metto lo script ruota dentro questo questo nel video ma tanto comunque non è l'oggetto principio di questo video in pratica sto facendo una serie di ripassi quindi siamo praticamente alla ah si perché ho ripreso le cose qui stavo riscrivendo praticamente lo script quindi lo vedete che faccio la rotazione ecco vedete questo qui è il modo giusto per farlo speed per time delta time infatti qualcuno prima mi ha fatto notare che speed da solo era molto veloce time per delta time è una frazione molto piccola che tra l'altro viene aggiornata automaticamente dalla da unity cioè praticamente lui ogni volta che chiama tenete conto che questo pezzo di codice cioè questo script viene chiamato da unity una volta ogni frame sapete cos'è un frame del gioco o della o della realtà virtuale o anche di second life praticamente in second life ci sono mi sembra circa 40 frame al secondo che però in alcuni giochi possono arrivare anche a 100 frame al secondo e quindi ogni frame può durare praticamente da un quarantesimo un centesimo a volte anche di meno quindi però a seconda del carico che ha la macchina e della potenza di calcolo del vostro pc potrebbe riuscire veramente a farne 100 di frame al secondo ma potrebbe anche farne di meno sì però la cosa interessante è che unity con questo delta time vi dice con esattezza quanto tempo in microsecondi credo una cosa del genere sono passati dall'ultima volta che ha girato in questo modo se voi usate quel numero anziché un numero vostro per controllare la velocità siete sicuri che voi accelerate o rallentate in funzione del fatto che il computer stia rallentando o accelerando e alla fine il risultato di questo prodotto è che il moto diventa assolutamente omogeneo cioè diventa uguale sia su un computer che su un altro quindi questo time delta time ha questo significato non so se l'avevo mai detto ma è sempre ciò non toglie che se voi non ve lo dimenticate mettete soltanto lo speed ottenete comunque una cosa che ruota solo che magari si ruota con un po' di a singhiozzo a seconda dei momenti comunque non è allora qui tra l'altro questo fatto così dà degli errori perché manca speed perché lo configuro quindi configuro questo famoso speed lo speed gli metto 1f perché non è un float quindi float vuol dire che è in virgola mobile quindi c'è la virgola anche se qui non è uno script però da intendersi come un numero che non è intero perché la speed tipicamente è un qualche cosa che può essere 1, 2,5 o 2,9 il public l'abbiamo messo perché così lo possiamo controllare da unity nel senso che il programma adesso qui dice che c'è una certa speed che è 1 ma se fosse più corta più lunga lo possiamo poi controllare ancora quando il gioco è in esecuzione dal posito pannello ok quindi una volta messo lo script di rotazione e aggiunto si dovrebbe trovare una volta cliccato qui sulla destra cliccando il cubo si dovrebbero vedere anche tutti i nomi dello script ma soprattutto vedete che qui lo script si vede sulla destra che è un componente e sulla destra si vedrà anche questo speed che avevo messo public il fatto di aver scritto public dentro lo script consente di farlo vedere qua e questa è una cosa molto potente che ad esempio in second life non esiste nel senso che in second life non si possono configurare gli script in questo modo elegante no ma l'avevamo già detto l'altra volta quindi se voi vedete che uno è troppo lento potete infatti uno probabilmente lento bisognerà mettere almeno 20 ok ma queste cose sono tutte insomma abbastanza banali allora la cosa invece importante da fare quando si vuole fare un progetto google cardboard è quello di andare a cominciare a mettere le parti che abbiamo infilato con google vr quindi con google vr andiamo a prenderci gvr editor quindi scriviamo proprio gvr editor qui su questa su questa search e lui in questo modo ricerca in tutti gli assets che abbiamo perché proprio qui abbiamo cliccato su in assets quindi fa la ricerca tutto dentro e vedete che ci fa vedere un cubo un cubo vuol dire che è una specie di prefabbricato c'è una roba già fatta e questa roba già fatta ci permettere la metteremo nella nostra scena e ci permetterà di vedere come sarebbe se avessimo il google cardboard senza doverlo per forza compilare metterlo su un cellulare e vedere come va quindi una sorta di c'è questo gvr editor emulator in pratica non è obbligatorio ma velocizza molto perché così vedete subito che cosa come appare il gioco mentre lo state facendo quindi andiamo avanti e una cosa vedete che qui adesso io non l'ho ancora messo ma poi lo metterò cioè il gvr editor emulator nel gioco però la cosa importante da fare è quella di costruire un empty un empty viene questo qui è una pretesa praticamente del gvr cioè di solito qui c'è una telecamera ma il il nostro google cardboard non vedrà esattamente ciò che è dentro della telecamera ma vedrà la telecamera solo se la telecamera è dietro un empty quindi praticamente qui si costruirà un oggetto che è un empty il sito è il nome io lo chiamo sempre player e poi ci si sposterà dentro la main camera ok quindi praticamente si qui praticamente vedete che si arriva a questa situazione ok dopodiché qui c'è quel famoso discorso che dicevo in cui il player all'inizio avrà certe coordinate ma soprattutto se voi cliccate sulla camera la camera probabilmente avrà delle coordinate che non sono alzerate quindi il problema è che per funzionare la camera deve avere coordinate la trasformazione della posizione 0,0,0 perché se per caso non ha queste coordinate succede un massacro nel senso che il il cardboard in realtà penserà di essere tipicamente al centro del cubo e al centro del cubo si vedrà la scena dal di dentro e non si vedrà come questo vedete che qui si fa una camera preview ma si vedrà tutto tutto bianco in pratica si vedrà solo l'ombra del cubo infatti Daniele mi sembra che sia avuto questo problema e anche altri e quindi la cosa fondamentale è riuscire a mettere la camera sotto il player ma assicurarvi che le sue coordinate siano 0 quindi si clicca sulla main camera e si o si azzera a mano questo oppure si clicca qua dove c'è l'opzione di reset dopodiché se si vuole spostare la telecamera bisogna in realtà cliccare su player e poi muovere praticamente il player che essendo padre della telecamera vedete che qui la main camera è figlia del player è messa proprio sotto allora a questo punto guidando il player si potrà spostare la telecamera per vedere cosa vede la telecamera la cosa migliore è aprire il game questa finestrella qua spostarlo magari sotto in modo tale da vedere cosa vede il game il game e poi muovere il player comunque poi ho fatto anche proprio un video specifico che spiega questa cosa qua e ecco la cosa importante è che a questo punto si mette il gvr editor emulator e avendo messo il gvr editor emulator quello che succede è che si può fare il play e la cosa notevole è che mentre si ha il gvr editor emulator potete usare alt e muovere il mouse oppure control e muovere il mouse e si ha più o meno l'effetto che avreste se indossaste il google cardboard e guardaste la scena quindi si può praticamente vedere il tutto quindi e questo praticamente il secondo video scopo del secondo video era arrivare a farvi capire che dovevate mettere questo trucchetto player main camera e di mettere il gvr editor emulator per riuscire a fare il primo il primo step insomma della realtà virtuale con il google cardboard sono domande su questa parte vedo ditemi anche no tra l'altro mi sembra che alcune di voi probabilmente queste parti le conoscono già io avevo detto che sì avevo detto che queste parti possono essere di interesse anche a chi non ha non vuole usare google cardboard ma vorrà usare il il go oppure il quest oppure il rift perché in realtà su rift e su tutti questi altri apparecchietti il concetto è esattamente identico concettualmente cioè praticamente ci sarà sempre un unity package da scaricare apposta che introdurrà una serie di robe e poi questa serie di robe dovranno poi essere miracolosamente messe nella vostra scena e poi mettendole con una certa miracolosità ottenete dei risultati che sono poi quelli desiderati attesi di poi poter prendere un oggetto poter interagire toccarlo al click e via discorrendo allora questo qua praticamente è il era il secondo video invece il terzo video del del programma che è questo qui parte 3 allora questo video è praticamente forse vabbè niente spiega come muovere il player con un semplice scripting script quindi vediamo un attimo se riusciamo a ok quindi qui riparte sempre dalla situazione in cui abbiamo lasciato il nostro cubo quindi cubo più la telecamera che abbiamo visto che è figlia del player più il gvr editor simulator ok da questa posizione praticamente cosa facciamo andiamo sul player e quello che vogliamo fare è rendere il player e poi questo player si chiama player perché rappresenterà proprio il giocatore quindi sul giocatore la cosa che si farà è di costruirgli attorno una collision collision vuol dire una specie di armatura che colliderà con gli oggetti perché l'intento è quello di non attraversare gli oggetti e di non affondare nel pavimento e quindi la prima cosa da farsi sarà di costruire questa questa struttura questa collision quindi come facciamo a costruire questa collision se lo vediamo più o meno in questi oggetti ecco la cosa fondamentale sarà poi quella di andare nel andiamo un attimino ancora leggermente indietro ancora più indietro ce la farò prima o poi ecco vedete che e così vi spiego nel frattempo anche il significato un po' dell'inspector che a volte sfugge voi qui sulla destra abbiamo detto che vi trovate un sacco di informazioni quando cliccate su qualunque oggetto sulla destra le trovate nell'inspector tutte le parti che sono associate a quel componente al player a quell'oggetto game object in particolare la prima cosa che c'è è proprio una cosa che si chiama transform la transform è proprio la posizione fisica dell'oggetto il modo in cui è ruotato e la scala dell'oggetto e chi viene da Blender sa queste cose sono uguali chi non viene comunque sono semplicemente dove sta come è ruotato e quanto è grande rispetto alla sua versione base però si possono aggiungere una serie di altri componenti infatti io adesso quello che aggiungerò a questo game object che è il player gli aggiungerò questa capsula e la capsula lo fa il video praticamente la capsula viene ottenuta praticamente add component e poi qui comparirà una finestra di ricerca dove dice noi possiamo digitare visto che sappiamo di voler mettere una capsule collider creiamo cap ci fa vedere camera canvas e tutto quello che è e tra le tante opzioni c'è anche capsule collider capsula sapete no? perché la capsule serve la la suppostina che rappresenta il il player no? questo perché è inutile avere una collision cioè una collision mesh troppo sofisticata perché tanto più o meno è importante che quando arrivate vicino a un oggetto si accorga che voi siate vicino quindi una cosa molto semplificata molto facile per il computer da elaborare praticamente si dice che si vuole la capsula e a questo punto compare praticamente capsule collider poi a questo punto qui dentro ci sono un sacco di opzioni e noi vedete che quando viene creata la capsula compare automaticamente questa specie di griglietta verde attorno all'oggetto in cui gli abbiamo aggiunto il collider e questa capsula cioè questa griglia verde dice più o meno le dimensioni noi vogliamo fare in modo tale che questa capsula sia allungata e rappresenti praticamente proprio un corpo quindi sia alto un tot quindi la cosa che si fa è di allargare nelle dimensioni vedete che il raggio di questa capsula era aspetta un po' dove era quindi si crea questa cosa qua si hanno delle coordinate queste ma come vedete è abbastanza sferica e quindi bisognerà aumentare l'altezza allora la domanda per chi è stato attento le volte scorse è come si fa a aumentare qual è l'asse tra x y z che permette di intervenire sull'altezza in unity ok e la y mentre invece faccio la contradomanda qual è l'asse invece che sarebbe in second life o in blender z ecco questo qui tanto per rendere le cose semplici alla gente ci sono dei programmi che usano la y e altri programmi che usano la z è questo quindi qui bisognerà mettere vabbè o sulla y oppure in questo caso forse la height che viene taroccata nel senso che vedete quindi praticamente da 1 lo metto 1.80 la height in questo modo avendo fatto questa operazione praticamente la capsula vedete che diventa immediatamente più alta che larga e poi cosa succede che però l'idea è che vogliamo fare in modo tale che poi tra l'altro l'oggetto può essere spostato in modo tale che la capsula sia esattamente aderente al piano quindi si sposterà il player in modo tra l'altro vediamo Lorena sta arrivando quindi si sposterà praticamente tutto il player in modo tale da essere aderente al muro al pavimento e poi l'idea è quella di alzare leggermente la camera in modo tale da farla arrivare alla testa della capsula quindi in pratica si cosa ci fa si l'ho fatto qua quindi si clicca praticamente sulla camera vedete che qui ho cliccato sulla camera qui infatti c'è scritto main camera la camera c'è la sua transform e qui devo alzare un po' la sua altezza e quindi dobbiamo lavorare appunto come dicevo prima sulla y qui lavoriamo sulla y qui la y quindi era 0 l'abbiamo messa un po' più su quindi è diventata si praticamente nuca il player che viene alzato si vedete che praticamente si lavora praticamente su quelle coordinate della camera no è messo 0,5 si mette mettendo 0,5 la telecamera si alza e diventa praticamente l'altezza degli occhi quindi siamo alti beh forse non proprio 1,80 1,70 ma comunque siamo un po' più alti insomma che va bene per la realtà virtuale vedo che Lorena Ragusa continua a cadere forse speriamo che non ci siano problemi una volta impostati quindi questi dati abbiamo bisogno di fare in modo tale che questa capsula oltre a collider si comporta proprio come come un oggetto che si muove c'è un giocatore apposta quindi tra l'altro notate che una cosa non so se avete notato che tutto questo lo stiamo facendo senza script quindi gli script li stiamo cercando di ridurre al minimo possibile quindi dovreste ringraziarmi perché so che non andate sempre molto d'accordo con gli script quindi buona parte di questi video sono script free ok quindi andiamo avanti allora quindi una volta fatto questa capsula viene aggiunto un altro componente quindi sempre qui sulla destra facciamo add component e questa volta dobbiamo creare quello che si chiama un rigid body si chiama proprio così rigid body allora il rigid body è fondamentale perché permetterà di darci un po' di massa fisica no? cioè di massa quindi ci permetterà di muoverci di essere anche di avere un'inerzia quindi magari se ci muoviamo e poi smettiamo il movimento viene applicato anche un po' di questa inerzia soprattutto viene si può dire di essere soggetti alla gravità e essere soggetti alla gravità è importantissimo perché come diceva Daniele Vigato prima forse non l'avete sentito prima ma se non si fa questo tic se non si ticca qua quando poi ci si muoverà si rischia di essere buttati via perché si è leggerissimi praticamente no? quindi si si scappa verso l'infinito in realtà a volte può essere anche voluto in alcuni giochi quindi si può effettivamente mettere e togliere ah una cosa soltanto una piccola trappola quello suolo dirvi che a me frega sempre quindi probabilmente vi fregherà anche voi è che se cambiate le caratteristiche della scena assicuratevi sempre che non sia premuto il play perché perché se per caso cambiate la scena mentre c'è il play inserito le modifiche le vedrete nella scena ma non appena poi tornerete alla modalità di progetto vengono cancellate tutte quindi avete buttato via tutto il tempo ah hai fatto un video perfetto ok quindi ricordatevi sempre quando aggiungete componenti eccetera di fare sempre questo giro poi quello che io dico qua nel video è di fare attenzione al cioè che è utile qui mettere la freeze rotation x y z questo perché se per caso si inciampa l'oggetto si comporta la capsule si comporta esattamente come se fosse un birillo vero e se per caso vi scontrate contro qualche cosa vi inclinereste completamente e cadreste per terra cosa che oltre a essere poco credibile però potrebbe dare anche mal di testa nausea eccetera soprattutto se lo vedete in realtà virtuale quindi fondamentalissimo se seguite questo trucco di muoversi frizzate congelate le rotazioni quindi l'oggetto rimane sempre alla stessa rotazione a meno che voi non lo cambiate voi la rotazione muovendo il guardando in giro ok quindi vedete che ho messo x y z quindi siamo a un punto dopodiché ecco la cosa che succede a questo punto è quello di andare a scrivere un altro script e questo secondo script che chiameremo move lo metteremo poi dentro la camera quindi praticamente si va a crearsi uno script e questo script dentro ci metteremo semplicemente una istruzione fondamentale dentro il update sono uno due tre righe fondamentalmente e che se vediamo sono sono questa cosa cioè praticamente si chiede se l'utente sta premendo il tastino del google cardboard e se lo sta tenendo premuto allora cosa fa modifica la posizione della camera quella dove siamo o nel player se non mi ricordo se l'ho messo nella camera o nel player se lo vediamo e lo modifica in modo tale da muoversi nella direzione in cui si guarda la telecamera sta guardando vedete che qui sto camera punto main rappresenta la telecamera la trasforma vuol dire le sue coordinate rotazione rotazione scala e forward e in inglese vuol dire davanti vuol dire la freccia che parte dalla camera e guarda in avanti cioè quindi questa espressione qua indica dove sta guardando la camera questo viene moltiplicato per un coefficiente speed che è simile a quello che abbiamo visto prima per ancora il time delta time per riuscire a muoversi in maniera fluida nella direzione in cui sta guardando la camera e tutto questo viene aumentato cioè questo valore qua viene addizionato alla posizione attuale del della di cosa siamo noi la telecamera o il player adesso lo vediamo quindi semplicemente questo movimento avviene solo quando si preme il il tastino oppure se lo fate la prova su sul vostro unity quindi con l'emulator l'emulator quando cliccate il mouse quindi col tasso sinistro del mouse quindi questo è tutto lo script che facciamo quindi prima di andare avanti volevo solo chiedervi se questo script vi sembra complicato se lo capite poi intanto nel video in questo caso me l'avevo ricordato di averlo di metterlo su su cardboard cioè su pastebin e quindi potrete poi utilizzarlo ok ci sono domande? ok allora una volta costruito lo script quindi visto eccetera quindi qui praticamente nel video sto descrivendo questo script probabilmente lo andrò a inserire dentro il player mi sembra di capire ecco è sul player sì diciamo che gli script su unity in teoria possono essere arbitri veramente complicati ma quelli che vi sto facendo vedere adesso sono probabilmente anche più semplici delle versioni che abbiamo visto in Godot chi di voi è venuto al corso dell'anno scorso abbiamo fatto una cosa molto simile ma abbiamo visto che c'erano degli script in Godot che erano più complicati di questi quindi probabilmente più semplice qua quindi una volta che si si è fatto lo script che avevamo chiamato move qui aggiungete un componente e scrivete proprio m o v molto da cercarlo e quindi lui trova il vostro script e a quel punto praticamente lo script viene aggiunto al player ecco infatti vede che c'è il move script viene aggiunto per aggiungere lo script o si aggiunge come add component oppure si può anche prendere lo script da qua e si può trascinare direttamente sopra quindi in realtà dipende anche da come volete però il risultato finale o con l'add component o con il trascinamento dello script è quello che poi qui comparirà quest'altro componentino e se ci sono dei public dentro come in questo caso compare la velocità che potete controllare a questo punto io semplicemente faccio il play e poi faccio con l'alto il control che abbiamo visto prima guardo mi guardo in giro e poi quando faccio il click mi muovo quindi praticamente qui vedete che ci si muove e qui niente c'è praticamente e poi tra l'altro qui ho fatto vedere che se arrivavo in fondo alla alla piattaforma visto che c'è la gravità succede che poi cado giù insomma è questo più o meno lo script ok questo è diciamo il contenuto del quarto video il terzo non mi ricordo quando è e qui dentro il video c'è anche praticamente lo script che dicevo quindi se voi lo aprite questo è il terzo allora dove c'è visualizzazione e poi qua sotto abbiamo il il pastebin che vi dicevo ah no ho sbagliato il lo script vabbè niente stavo giocando a stavo giocando a una a un escape room e vi è comparso praticamente la soluzione no avevo scritto quello sbagliato quindi magari faccio una cosa lo scrivo qua quello giusto correggo così lo questa volta lo troviamo stiamo facendo anche il debug pastebin quindi vediamo un po' salviamo ok quindi questo è il video che vediamo un po' se se funziona eccolo qua pastebin e qui avete il pastebin questo qui e avete finalmente il questa cosa qua ok quindi adesso non rimane che fare l'ultimo step dei miei video e l'ultimo step dei miei video lo ottenete praticamente andando a vedere l'altro video che avevamo quindi l'altro video che avevamo è l'ultimo previsto che è questo qua questo qui doveva essere in realtà molto semplice ma poi alla fine mi ha fatto dannare ho dovuto registrarlo 5-6 volte e questo perché ho visto che ho cambiato recentemente il cellulare ho usato praticamente l'ultima versione del cellulare che esattamente come visto che sono tutti preoccupati sui virus che arrivano da tutto il mondo adesso è diventato particolarmente complicato inserire un'app sul android quindi quello che in questo video sto combattendo è proprio riuscire a installare l'app sul cellulare sui cellulari più vecchi in realtà il problema si pone di meno ma comunque in ogni caso è utile sapere quindi l'obiettivo di tutta questa cosa qua è di produrre l'APK sapete cosa è l'APK è il filetto che poi potete mettere sul vostro cellulare ma poi alla fine io c'avevo un Samsung A50 che in realtà dovrebbe essere uno dei più semplici esistenti e della Samsung non è una non è una roba strana eccetera però tutte le volte che ci ho provato soprattutto perché non me l'aspettavo mi ha chiesto 5-6 volte insomma conferma quindi vi faccio vedere un po' il tribo quindi se avete questo video vedrete tutta la mia sofferenza nel caricarlo se a voi non avrete questa sofferenza molto di guadagnato ok comunque quello che succede è che si fanno delle operazioni che se non l'avete già fatte vi dovranno essere dovrete poi imparare memoria quindi la prima cosa da fare sarà quella di fare il build settings quindi the file build settings oppure anche ctrl shift b se volete facendo il build settings cioè praticamente cosa si vuole fare si vuole convincere Unity che noi vogliamo sviluppare per Android finora non gli abbiamo detto esplicitamente quindi dobbiamo dirglielo quindi dobbiamo andare su build settings e poi su build settings dobbiamo andare e cliccare qua sulla piattaforma e dirgli che vogliamo andare sulla piattaforma Android una volta che gli abbiamo detto che andiamo sulla piattaforma Android si clicca su switch platform e quindi si andiamo sulla piattaforma quella si impiega tutto il tempo opportuno per scaricare tutte le sue cosine perché gli servono e quando avrà finito di fare questa operazione perché ti blocchi? vabbè adesso vediamo un attimo una cosa forse Maria eri tu che non avevi l'Sdk il java quelle cose là eri tu che mi hai scritto qualcosa non mi ricordo comunque eh ma quello dipende da come hai configurato ecco magari ne approfittiamo per far vedere il allora qui abbiamo il nostro io intanto comunque andiamo sul andiamo sulla versione diciamo allora Unity faccio questo giusto per riepilogo anche gli altri su Unity Hub quando si fanno le installazioni quindi il 2.19 2.12.f1 vedete che qui c'è anche il simbolo dell'Android Build Support quindi la prima domanda che ti dico è se a te ti compare il simbolino di Android quando quando vai in questa finestra negli stores ma poi c'è la necessità di fare gli add modules cioè di vedere quali moduli sono inestati e qui ci sono ci deve essere qua l'Android Build Support Android SDK e OpenJDK tu a te ti compaiono ti ticcate questi 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 perché questi tra l'altro notate che non sono piccoli questo Android SDK e NDK e Ntools sono 3 GB 2 GB solo per Android e poi 70,5 MB per Java quindi se eri tu che mi hai detto che ti mancava Java perché OpenJDK è Java praticamente devi controllare di aver messo il tic di queste cose qua se non le avevi messe allora puoi metterle in questa operazione e poi quando fai danno lui si carica le cose che eventualmente mancano se per caso le avevi messe comunque e lui non te le trova io ho visto alcune persone che hanno avuto effettivamente dei problemi e in quel caso lì hanno dovuto reinstallare Unity Hub però di solito non si arriva proprio tanto quindi comunque è chiaro che praticamente cioè quello che ti dice se ti dice che manca Java vuol dire che secondo lui gli manca questo coso qua se ti dice che gli mancano i tools di Android vuol dire che gli manca questo e se ti dice che non c'è Android Support è questo qui voi mi direte perché se li clicca da solo lui e il motivo è un motivo di licenze cioè di diritti perché questi sono tutti prodotti gratuiti open source però visto che l'open source prevede che chi fa queste cose deve essere conscio che sta usando questi prodotti e quindi non glieli si può dare sotto sotto banco quindi tutte le volte che si usano come nel nostro caso voi dovete sapere che state mettendo dentro un open gdk e state mettendo dentro un android sdk e anche quello non so se è chiaro il perché ci sia questo questa questa è una cosa più altro giuridica burocratica allora torniamo al nostro al nostro cosino quindi una volta che è riuscito insomma a farlo switch di piattaforma e che non vi date errori ci sono poi un paio di cosette da mettere a posto in particolare allora qui ci sono i player settings i player settings sono normalmente ci arrivate sempre dal file cioè da dentro quella mascherina lì quindi praticamente ve la faccio vedere vedete qui c'è scritto player settings quindi i player settings io in realtà spesso una volta che sono aperti me li trascino prendendo il top della maschera e li trascino qui dove c'è l'inspector perché a me avere queste mascherine qua che girano libere per il mio schermo mi confondono che poi non le trovo non so dove sono quindi preferisco averle tutte in posti rintracciabili poi voi se vi va bene come fatto così va bene anche quindi anche il build settings volendo potete averlo qua in modo tale da non doverlo andare a cercare là sopra ok quindi una volta premuto il player settings dovete andare in questo player settings e in questo player settings bisogna installare bisogna dirgli che si vuole fare la realtà virtuale quindi per dirlo lo si bisogna andare nei posti giusti quindi player qui e qui sulla destra ci sono tutte le opzioni e tra le opzioni abbiamo principali abbiamo l'XR settings quindi dovete cioè man mano che cliccate qui si apre solo la porzione che state cliccando e si chiudono tutte le altre qui ci sono le cose che interessano a noi sono other settings e XR settings quindi andrete su XR settings e su XR settings dovete mettere il tick e quando avete messo il tick dovete poi specificare quali sono gli SDK da usare cioè su che cosa dovete fare quindi dovete andare sul cardboard piuttosto che sul piuttosto che su Oculus all'inizio quando entrerete sarà vuoto vedete sarà così XR settings vuoto poi qui c'è il più se cliccate sul più vi dirà più che cosa più cardboard direte e nel momento in cui gli avete detto più cardboard compare il cardboard e poi qui sotto vedete che c'è un warning che vi dice letteralmente dice andate sull'opzione other settings e togliete Vulcan e quindi io obbedisco noi obbediamo a quello che ci dice lui perché lui dice altrimenti non funziona quindi cosa facciamo andiamo avanti andiamo a cliccare su other settings qua qui c'era Vulcan in quella in quella lista ecco vedete su other settings su rendering qui c'era Vulcan quindi io clicco su Vulcan e poi clicco il meno per cancellare Vulcan cioè semplicemente eseguito quello che mi ha chiesto lui di fare in realtà c'è ancora un'altra due o tre cosine da fare qua sopra che sono intanto qui potete anche cambiare questo nome ad esempio sul package name potete metterci un nome vostro tipo metterò qua il compac il comp salazzaro qualcosa come edu3d ma non ha molta importanza in assoluto ma soprattutto bisogna cambiare la versione di android su cui gira quindi qui c'è un pezzettino che vedete android 4.1 ecco voi dovete capire che se non toccate questo pezzo qua non vi funzionerà mai e quindi dovete cliccare sul minimum API level e anziché 16 che è scritto adesso dovete mettere un numero più alto che mi sembra che sia almeno il 19-20 ma io di solito metto il 23 che è il marshmallow sono le varie versioni di android su cui può girare mi sembra che adesso siamo sulla pie insomma però il minimo mi sembra che sia il kitkat però andiamo un pochino più avanti questo vuol dire che la pick up che genererete non potrà girare su android più vecchi del 6.0 quindi 5.1 5.0 eccetera non funzionerà ok questo più o meno è le cose principali da farsi poi ci sono altre ma queste sono qui ho cambiato vedete che ho messo org salazar gvr unity e poi credo che sia finito nel senso che poi a quel punto lì vado di nuovo a questo punto a costruire e faccio il ecco gli ho detto di fare una build per android praticamente sono tornato qui ho detto io dico qui di fare build e non build and run il build and run l'ho fatto vedere questo ghost però è pericolosissimo da fare perché praticamente quando si preme build lui costruisce la pick up e ci impiegherà i 10 minuti che vedremo se invece fate build and run lui costruisce la pick up e cerca di installarlo sul vostro android che si aspetta che sia collegato su USB però quella modalità fatta in quel modulo è molto bella è molto utile è molto veloce per certi versi ma riuscire a farla funzionare è un po' un disastro nel senso che bisogna installare dei driver su Windows su Mac no è più facile ma comunque anche lì sono dei casini insomma io preferisco in questo video vi spiego di fare le build della pick up e poi di spostarvelo a mano quindi niente si fa praticamente lui quando fate build vi chiede dove inserire la pick up quindi voi vi dovete dare il posto dove mettere questa cosa io diciamo che costruisco una cartella lì dentro praticamente a quel punto lì si specifica la cartella e il nome del file e lui comincia a fare tutto questo trigo e quando fa questo trigo praticamente si può impiegare anche 10 minuti ecco perché è importante avere l'emulatore perché magari fate la prova un pochino prima e poi qui arrivate al punto critico nel senso che avete prodotto il punto a pick up a questo punto a questo pick up dovete in qualche modo inviarvelo sul cellulare allora qui ci sono diverse scuole di pensiero io mi sembra come lo mando via mail e poi lo apro da 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 android altri lo caricano su google drive e lo scaricano poi da lì comunque avevamo già fatto questo qui insieme ah telegram perfetto sì anche telegram è molto veloce sì insomma ognuno poi c'ha le sue preferenze secondo me alla fine è più veloce così che non con l'usb così non avete neanche bisogno di avere il cavetto e poi in teoria dovrebbe essere tutto buono questo qui è un emulatore anzi no è proprio il mirroring in cui mi sono mandato il file zippato e poi da qui era nata insomma l'epopea perché nel momento in cui lo passavo e poi cercavo di cliccarlo per farlo per farlo accettare allora lui mi ha cominciato a dire che non è autorizzato a installare applicazione sconosciuta da questa origine bene e quindi si clicca impostazione e in qualche modo ah vedi se non avevi il simbolo di android vuol dire che te eri te eri dimenticato di dirgli che di scaricare ma però basta andare poi in quella dove ti avevo detto io sempre lì mentre lì hai visto che manca il simbolo vai su install cioè su edit te lo faccio magari rivedere un secondo così praticamente vedi qui tu non ce l'hai se vai qua vai add modules poi nell'add modules tu vedrai che mancano le spunte tu gliele metti one two three uno due tre e a quel punto lì fai done e lui si mette a tritare e ti scaricherà 5 gigabyte no sì 5 gigabyte anziché di più 3 2 e 70 ok dopodiché una volta che l'hai finito sì sì qui potete fare tutto quello che avete fatto l'altra volta io adesso non lo non ti compare add e allora se non ti compare l'add fai forse quasi prima a disinstallarlo e poi a reinstallarlo cioè praticamente se qui io volessi fare praticamente riparti da zero ma riparti magari pulita ok torniamo a dove eravamo rimasti quindi sul video qua quindi vabbè adesso vi salto comunque avete capito tutto il casino se per caso avete casino di questo tipo sappiate che dovete lottare con le configurazioni del vostro del vostro signorino e dopodiché a un certo punto vi comparirà quindi una volta installato vi comparirà l'icona e ve lo permetterà di lanciare ah ecco questo ah c'era l'impostazione di play protect ecco cioè dopo averlo autorizzato ho dovuto ancora fare a disabilitare play protect ecco era questo che non mi ricordavo più che prima non usavo quindi play protect serve per evitare che installiate virus però vi impedisce di installare anche le vostre applicazioni ho dovuto disinstallare configurarle in modo tale da non rompere le balle e a quel punto lì sono riuscito di nuovo ripetendo tutto il giro vabbè poi a parte alcuni problemini il programma è fatto così praticamente non richiede nulla di eccezionale quindi ve lo configura finalmente lo installava e dopodiché quando lo lancio la cosa che succedeva che vedete che si vede il adesso qui magari ve lo faccio vedere in diretta vedete che se lo mettete nel visore praticamente ecco quello che succederà di questa applicazione qua è che o lo cliccate sullo schermo se lo mettete proprio direttamente se non avete voglia di metterlo nel visore giusto per vedere se funziona basta fare il tatto nello schermo oppure si può fare anche il mettere nel visore c'è quello Google Cardboard e a quel punto lì sì ecco una cosa che non so se notate che vedete queste ombre che ci sono dietro sono molto zigrinate quindi sono un po' bruttine c'è un modo per dirgli di farle perfette però di solito quando si parla di Cardboard trastagliate grazie quando si parla di Cardboard di solito non si fanno queste raffinatezze perché introdurre sì c'è un adesso non mi ricordo come lo chiama comunque lo vedremo poi un'altra volta se vi interesso o magari farò un videino specifico perché a un certo punto quando poi indossate il visore vedere tutte queste imperfezioni potrebbe essere un po' negativo e l'ho visto soprattutto nelle ombre in realtà poi ho visto che la correzione forse non è neanche tanto nell'aumentare la risoluzione ma cambiare la distanza dell'ombra cioè un'impostazione di quel tipo perché così diventa bella nitida comunque ve lo faccio vedere comunque il senso finale di tutto quello che abbiamo visto fino adesso è che potete praticamente navigare nel vostro nel vostro ambiente che avete costruito sbatterete attorno addosso alle vostre scene e quindi e quindi questo è praticamente tutto ed è il grosso argomento di questa giornata se riuscite a sopravvivere a questa cosa poi dopo vediamo ancora la volta prossima diciamo l'interazione e l'altra cosa che molti mi avevano chiesto se volete è anche il fatto di potersi muovere senza il click perché purtroppo ci sono diversi cardboard che non hanno il click e quindi c'era anche la necessità di riuscire a coprire anche questi questi cardboard e in quel caso lì per riuscire a muoversi si usano una serie di tecniche tipo si guarda fisso in una direzione se si guarda per più di un certo tempo allora ci si comincia a muovere e così via quindi scusate per siamo andati forse un pochino lunghi questa volta quindi sono già quasi le 11 però vi chiedo come vi sembra queste cose vabbè alcuni di voi mi hanno detto che le hanno già fatte sembra interessante e ripeto dunque alcuni di voi mi sembra ad esempio Daniele ha già provato tutto lo so perché l'ho seguito negli ultimi giorni settimane anzi credo che forse lo sapesse già fare anche prima o qualcosa del genere o comunque ci aveva già pasticciato perché comunque ha fatto un po' di cose ma anche altri Laura Antichi si dice che lo fa quindi quello che voglio dire è se col cubo sommerso quello che voglio dire è che se per caso io non riesco a rispondere alle vostre eventuali richieste d'aiuto comunque ci sono almeno due o tre persone qui nel gruppo che ci sono riuscite quello che io non riesco a fare è aiutare le persone che hanno iOS cioè Mac Apple quindi su quello o ci troviamo qualcuno di un pochino bravo che lo faccia sul Mac e quindi mostri come si fa oppure mi sa che siamo che siamo a piedi almeno su quella parte lì notate che il Mac può essere utilizzato per sviluppare per Android e può essere usato anche per sviluppare per iOS va bene allora se tutto se non ci sono particolari domande in questo momento io direi che chi di voi vuole può andare a vedere le uova se non le ho già viste noi ci vediamo sicuramente fra due settimane per EduVR e la settimana prossima se non mi sbaglio dovrebbe esserci forse ancora una puntata di Blender giusto? Eva se c'è comunque mi sembra di ricordare che nel calendario l'abbiamo l'abbiamo inserito quindi se ci siete ricominciamo poi fra due settimane quindi due settimane vediamo un po' quando corrisponde parliamo del 22 di aprile e nel frattempo poi speriamo comunque voi se leggete i giornali sapete che ci sono delle notizie che non sono entusiasmantissime ma sono comunque quanto meno tenuamente positive nel senso che sembra che le cose si stanno mettendo un pochino meglio il numero che io guardo più di tutti è il numero di persone in terapia intensiva e le persone in terapia intensiva stanno diminuendo per la prima volta dopo diverse settimane prima aumentavano sempre quindi se non ci vediamo per Pasqua buona buona Pasqua e buone feste a tutti vi ricordo allora che la prossima settimana ci sarà lezione di blender metterò la locandina un paio di giorni prima eh sì mettila con magari se riesci a metterla già sabato o domenica sì anche no ma metterla troppo presto a volte è negativo perché poi uno si dimentica eh ma lì bisogna anche un po' insistere infatti io allora io faccio così faccio un sondaggio di solito sabato o domenica poi tu grazie che mi fai le locandine quindi le fai magari tipo lunedì martedì e poi magari faccio anche un altro post in più insomma in modo tale da ok farò da bersagliare le persone va bene anche perché qualcuno ha detto che non aveva visto la locandina insomma vabbè va beh chiediamo anche un po' scusa perché con 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 tutta questa situazione alcune periodicità sono andate un po' perse ma comunque rimane sempre rimane sempre il il nostro calendario che sapete che abbiamo funziona sempre il calendario non mi ricordo cioè dovrebbe funzionare sarebbe bit.ly barra edu3d edu3d cal 1 ok quindi mi raccomando di controllare sempre lì allora questo è tutto interrompo la registrazione buonanotte buonanotte a tutti buona Pasqua buonanotte a tutti